ciao benvenuti su delta gaming qui a delta 89 finalmente ho concluso le mie vacanze è il momento di tornare e questo weekend abbiamo già subito un evento 2x per le schegge del vuoto quindi ovviamente come al solito andrò ad aprire le schegge cosa che invece non ho fatto due weekend fa quando c'è stato il 2x per le schegge sagre infatti attualmente ne ho abbastanza 18 e sono stato anche relativamente fortunato perché nelle ultime settimane diciamo nell'ultimo mesetto non ho trovato molti libri leggendari ma invece ho trovato abbastanza schegge sagre quindi sicuramente sono sono pronto per la prossima fusione e proprio per la prossima fusione vediamo che è cominciato oggi un evento fusion warm up il che ci fa ovviamente pensare e direi ci dà quasi la sicurezza che questo giovedì perché di solito cominciano di giovedì anche se per gnutt hanno fatto un'eccezione hanno cominciato di lunedì questo giovedì dovrebbe cominciare una nuova fusione ad ora che sto registrando questo video domenica pomeriggio ancora non si sa nulla riguardo questo campione come sarà che fazione che rarità perché potrebbe essere addirittura un campione mitico anche se non credo che a breve avremo una fusione su campioni mitici però potrebbe prima o poi arrivare suppongo questa volta sia comunque un leggendario ma ancora non abbiamo nessuna informazione magari più tardi in serata uscirà qualcosa oppure magari domani quando le informazioni saranno disponibili farò un nuovo video con la mia opinione riguardo questo campione torniamo quindi all'evento di questo weekend un evento delle schegge del vuoto 2x come al solito nei primi due giorni quindi venerdì e sabato c'è stato anche un evento 10x per un campione specifico io ho deciso di saltare e di non sfruttare questo bonus aggiuntivo il campione a questo qua shu sen che credo forse addirittura sia l'ultimo campione leggendario del vuoto che sia stato rilasciato nel gioco è stato rilasciato qualche settimana fa il suo kit è interessante diciamo è abbastanza unico quindi sicuramente lo rende utile in alcuni contesti però non lo ritengo così necessario per il mio account in questo momento diciamo che se lo dovessi trovare molto probabilmente non lo builderei subito e rimarrebbe un pochino inutilizzato perché le priorità per il mio account sono altre ovviamente questo dipende per ognuno per alcuni di voi magari questo campione si rivelerebbe essenziale per il vostro account essendo un 10x per le schegge del vuoto è ancora l'unico caso in cui il 10x un pochino funziona e essendo io relativamente vicino al mio mercy diciamo che sono a 156 schegge aperte senza un leggendario quindi con quelle di oggi mi avvicinerei senza raggiungerlo il mio mercy però diciamo che la probabilità di non trovare non di trovare ma di non trovare un un leggendario diminuisce man mano che ne apro di più quindi potrebbe essere oggi un giorno fortunato per trovarne uno e siccome il 10x per le schegge del vuoto ha ancora una sua validità perché la quantità di campioni del vuoto leggendari è ancora relativamente piccola rispetto gli altri effettivamente c'è una possibilità concreta di trovare il campione del 10x e siccome appunto non mi interessava ho deciso di aspettare oggi che è domenica l'ultimo giorno dove il 10x non sarà attivo vediamo velocemente il kit di questo campione per chi di voi lo avesse trovato o per comunque chi fosse interessato la sua 1 attacca un nemico un 30% di possibilità incrementabile al 50 di piazzare blocco skill attive che su una 1 è sicuramente interessante e ha un ulteriore 100% con i libri di possibilità di invece ridurre la anzi di rubare il 20% della barra turno se quel campione ha già un blocco skill attive questa abilità ovviamente è principalmente funzionale per l'arena in pv non la ritengo molto utile da sfruttare in quanto blocco skill attive si potremo sfruttarla un pochino nella doom tower ma sicuramente non contro nessun boss quindi solo contro le varie ondate di nemici a quel punto non è un ostacolo così grande da necessitare davvero questo campione quindi la sua 1 principalmente per l'arena come un pochino tutto il suo kit infatti la sua 2 quello che fa è bersaglia un compagno se non ha pecora allora gli mette un incremento attacco incremento tasso critico incremento danno critico e gli da subito un turno il che praticamente cosa facciamo se noi andiamo a bersagliare il nostro nuker andiamo subito a potenziarlo con tutti i classici buff d'attacco lui eseguirà subito un turno e attaccherà il problema di questo è che vogliamo che questa cosa venga dopo un debuffer perché altrimenti andiamo attaccare senza un debuffer sarà molto molto difficile andare a eliminare la squadra avversaria considerando che attualmente siamo sempre pieni di campioni con stone skin con difese altissime hp altissimi protezione alleati scudi chi più ne ha chi più ne metta quindi è difficile che se non abbiamo riduce difesa e anche indebolimento riusciamo davvero a eliminare la squadra avversaria a meno che non abbiamo un campione come per esempio baron o per esempio georgid che sono campioni in grado di ignorare difesa e i buff degli avversari qualunque altro nuker molto probabilmente faticherebbe anche lo stesso taras perché se andasse a eseguire un turno per secondo subito dopo di lei comunque la quantità di buff sulla squadra non sarebbero tantissimi e quindi lui andrebbe ad attaccare diciamo con questi tre buff su di lui più magari se c'è qualcuno che c'è un set scudo o bolster ancora meglio magari altri quattro buff comunque il totale non è altissimo ecco quindi non lo vedo utilissima come strategia a meno che non avete un debuffer ancora più veloce che va prima però poi c'è sempre il solito discorso dei debuffer che con polymorph è sempre un rischio quindi ce l'andiamo ad azzardare è anche vero che noi potremmo dire ma sai che ti dico io vado col mio debuffer metterà il riduce difesa e magari indebollimento su tutta la squadra avversaria lui diventerà una pecora ma non mi interessa perché poi arriva Shuzhen che potenzia il mio nuker lo fa subito attaccare e se qualcuno dovesse sopravvivere poi dovrei quindi essere in grado relativamente di eliminare la squadra avversaria è un'opzione però diciamo che non mi fa pensare che questo campione sia assolutamente imperdibile ecco ha una sua utilità può funzionare molto bene ma non lo ritengo uno dei top campioni del gioco per questo in alternativa se invece il vostro compagno è stato trasformato in pecora lui e lei è in grado di farlo tornare normale che è ok però tornerà con 50 per cento hp 50 per cento paraturno e nessun buff quindi ovviamente sarà comunque in una condizione precaria sarebbe stato molto più sensato che lo avresse fatto tornare normale magari col più hp più barra turno o comunque con un po di buff di potenziamento quindi magari al posto che mettere incremento attacco tasso critico e danno critico a quel punto magari uno scudo un potenziamento incremento difesa qualcosa del genere o anche una protezione alleati su di lui perché così invece rimane molto vulnerabile andiamo invece a vedere poi la sua a3 che è invece mi piace molto come abilità incrementa la barra turno di tutti gli alleati del 20 per cento e piazza incremento velocità e poi riduce la barra turno di tutti gli avversari del 20 per cento e piazza riduci velocità credo sia l'unico campione che lo faccia sulla stessa abilità entrambe combinato anche con l'incremento e la riduzione della barra turno perché per esempio Lady Kimi lo fa ma su due abilità diverse questa abilità sicuramente buona sia in arena che in pwe nei dungeon dun tower eccetera però è l'unica abilità che secondo me potete sfruttare in tutte le altre aree mentre la sua a1 e la sua a2 le sfruttate principalmente in arena andando avanti la sua passiva incrementa la sua precisione di una quantità pari alla sua velocità quindi se voi gli mettete tantissima velocità e un campione come lei deve avere altissima velocità automaticamente andrà a incrementare tantissimo anche la sua precisione quindi sarà facile buildarla con molta precisione il che ci serve per la sua a1 e per la sua a3 però attenzione perché a quel punto rischiamo di essere noi trasformati in pecora e questo ovviamente non lo vogliamo essendo lei teoricamente il campione in grado di far tornare i compagni normali quando sono in pecora ma se lei diventa pecora siamo fregati infine la sua aura è un'aura molto interessante 30 per cento di velocità in arena è un'aura uguale a prince kai mar o ad arbiter quindi ottima aura ultimamente considerando lei e considerando san wukong che ha 28 per cento di velocità nell'arena abbiamo adesso molte più opzioni di campioni che hanno un'ottima aura per l'arena quindi sicuramente non è male ecco diciamo che questo kit non è male per niente 21000 di hp è sicuramente buono attacco non ci interessa difesa 1300 è sicuramente molto buono 110 di velocità è ottimo quindi sarà facile farla scalare come valori e ovviamente la sua utilità è un pochino una nicchia secondo me non non è un campione che utilizziamo facilmente in qualunque team o in qualunque era del gioco per questo non era così interessante per me cercare di ottenerla e dopo aver dedicato un po di tempo a parlare di lei adesso andiamo a evocare le 25 schegge del vuoto che ho accumulato negli ultimi tempi non sono tantissime però se ricordiamo bene c'è stato un evento in cui sono state aperte schegge in venerdì sabato e domenica di colore diverso e io quando c'è stato il 2 per viola le ho aperte in quel evento quindi parliamo di quattro settimane fa tre o quattro settimane fa quindi ci sta che non ne ho tante come di solito altrimenti di solito ogni sei settimane ne ho una trentina andiamo quindi ad aprirle non arriverò al mio mercy ma mi ci avvicinerò potrei trovare un campione leggendario non mi dispiacerebbe ultimamente ho trovato molti doppioni spero che se trovassi un campione leggendario non sia un doppione a meno che non sia taras in quel caso un doppione mi andrebbe bene per quanto riguarda gli epici invece probabilmente l'unico che mi può interessare è a camtum che non ho e quindi potrebbe farmi comodo anche perché un ottimo campione tra le review che ho visto o comunque potrebbe piacermi ottenere una school crown visto che ancora non ne ho trovata neanche una e non mi dispiacerebbe averla nel mio account anche se molto probabilmente non ho necessità di utilizzarlo cominciamo con due gruppi da dieci e vediamo cosa troviamo eccole qua le prime dieci è un ottimo nuker ne ho già parlato in un video qualche settimana fa quindi non mi ci soffermo verengaren sun cursed ok questo lui era interessante perché era l'epico della fusione che abbiamo dovuto fondere per knut credo e non c'era la possibilità di ottenerne una copia e lui in realtà non era malaccio come campione se non ricordo male allora vediamo un attimo velocemente le usabilità perché non me le ricordo attacca un nemico due volte ogni colpo ha la possibilità di rubare un buff a caso vabbè nulla di che però ok attacca un nemico tre volte ogni colpo ignora lo scudo piazza true fear su tutti i nemici per un turno se questo attacco uccide l'avversario e anche piazza inammazzabile su questo campione per un turno se l'attacco uccide un nemico ok scambia gli hp con un nemico e poi si dà un turno extra questo è interessante quindi se lui ha pochi hp li scambia con un nemico si dà un turno extra non so se possa funzionare sui boss magari su alcuni boss sì ma credo che la maggior parte se non la quasi totalità dei boss tra le proprie passive abbiano che non possono subire scambio di hp e infine la sua passiva fa un 30 per cento di danno in più contro i bersagli che hanno gli hp più bassi di questo campione il che è utile perché lui quindi va a scambiarsi gli hp con un avversario che vuol dire che teoricamente dovrebbe averli più alti di quell'avversario il che attiverà la sua passiva e poi lui andrà a attaccare con la sua 1 che probabilmente riuscirà a uccidere quell'avversario e quindi può andare ad attivare la seconda parte della sua a 2 ok andiamo avanti altri 10 ma comunque una coldart e pain keeper sicuramente due ottimi rari ne ho già in abbondanza ovviamente anche doom screech niente male azure non mi serve cos'altro troviamo qualche epico non starebbe male perché leggendario soulless ok allora uno dei migliori nuker di tipo difesa diciamo ha bisogno di un setup per funzionare al meglio non lo vedo tanto più utilizzato in passato era molto più utilizzabile potrebbe avere una sua utilità in live arena però non saprei quanto attualmente soulless possa essere utilizzato magari commentate voi qui sotto chi di voi lo ha dove lo utilizzate come lo utilizzate vediamo velocemente le sue abilità attacca un nemico un 35 per cento di possibilità di piazzare stan per un turno ovviamente 35 con i libri può diventare 50 il che sicuramente un'ottima probabilità la sua 2 attacca tre volte a caso e ogni colpo a un 75 con i libri 100 per cento di possibilità di rimuovere tutti i buff però è sempre un tre volte a caso non ci piace molto questa questo tipo di abilità perché abbiamo poco controllo inoltre piazza provocazione per un turno se in grado di rimuovere almeno un buff quindi se rimuove un buff andrà a piazzare provocazione questa non potrà essere resistita infine la sua a 3 che è l'abilità per la quale lui è un po più conosciuto attacca tutti i nemici incrementa la durata di tutti i debuff su tutti i bersagli di un turno inoltre piazza provocazione su tutti gli avversari per un turno quindi incrementa i debuff di un turno piazza provocazione poi piazza uno scudo su questo campione per due turni uguale al 30 per cento del danno inflitto e ecco qui la parte interessante il danno incrementa del 10 per cento per ogni debuff sui bersagli è pochino simile come logica a quello che fa taras che incrementa il suo però taras incrementa il suo danno critico lui solo si incrementa il suo danno finale che forse è anche meglio sì forse è anche meglio però questa si basa sui debuff mentre taras si basa sui buff e come ben sappiamo i debuff sono un problema attualmente con polymorph ma anche con stoneskin perché non siamo in grado di applicare debuff dei debuff su avversari con stoneskin quindi in generale avremo pochi debuff sugli avversari in pwe è utilizzabile ma in pvp la vedo molto difficile per quanto riguarda il pwe nei dungeon ok però non è lui che ci va a risolvere i nostri problemi perché poi contro il boss in realtà ci facciamo relativamente poco con questa abilità nella doom tower stesso discorso potrebbe avere una sottilità nell'idra non lo so quanto venga utilizzato nell'idra però lì possiamo mettere molti debuff se siamo bravi a non farli togliere diciamo provocazione è sicuramente utile per impedire alla testa dell'idra che va poi proprio a rimuovere i debuff quindi è una buona combo da quel punto di vista ma non lo vedo forse utilissimo altrove ormai infine incrementa la difesa nelle fazioni di tutta la squadra del 44% e un aura su un campione del vuoto che impatta solo le fazioni è abbastanza scarsa come cosa diciamo che è un campione molto vecchio stile oggi non esiste che rilasci un campione del vuoto che ha un'aura sulle fazioni anzi sarebbe forse il caso di cambiare questa ritoccarla un attimo e magari farla diventare o in tutte le battaglie riducendola magari al 35% o magari trasformarla in doom tower io preferirei forse in tutte le battaglie in quel caso si potrebbe utilizzare contro l'idra abbiamo quindi resettato il mercy e ho ancora 5 schegge da aprire le vado ad aprire e vediamo cosa troviamo felound non mi interessa più ormai ne ho già un paio di copie perceptor non ci interessa dai almeno un epico niente altro raro niente bello ok e così abbiamo ottenuto ok abbiamo ottenuto un po' di punti per questo evento autumn equinox path vediamo un po' vedete riesco ad arrivare questo non mi dispiacerebbe in effetti magari mi conservo questi credo siano perfettamente uguali i rami ah sì quindi possiamo prendere questo possiamo prendere quest'altro 11.000 5 di questo 100 vediamo prendiamo superior oil i 4.000 questi non li posso più prendere posso prendere un libro epico che non mi interessa assolutamente mi interessano forse più queste questi non posso prendere null'altro quindi vediamo così probabilmente questo se queste non ci interessano quindi l'unica cosa che ci manca da prendere il pollo sono pieno di polli quindi andiamo qui ok domani ci sarà un altro evento 10 per per alcuni campioni a me non interessa particolarmente non aprire lo sketch quindi lo lasciamo così ok direi che per oggi è tutto fateci sapere voi come è andata questo weekend chi avete trovato quali campioni se avete solace fateci sapere come lo utilizzate come al solito se questo video vi è piaciuto vi è interessato lasciate un like iscrivetevi al canale e raggiungeteci su discord con questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti